Davanti alla platea di 8.000 studenti e insegnanti arrivati da tutta la Toscana per partecipare al 22esimo meeting dei diritti umani al Bandela Forum di Firenze contro odio e intolleranza, il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato che entro Natale la giunta regionale proporrà una legge per proteggere chi fa accoglienza e chi deve essere accolto in Toscana e offrire a tutti il diritto all'assistenza sanitaria, sociale e all'istruzione. I principi sono che per quanto ci riguarda in materia concorrente la sanità, l'assistenza sociale e pure l'istruzione e quindi noi su questo vogliamo andare nella direzione, lo faremo prima di Natale, mi pare anche un messaggio importante anche per affermare per Natale l'idea di un'inclusione, l'idea che noi ci vogliamo far carico, non vogliamo buttare nel mezzo alla strada nessuno. Accanto a Rossi sul palco sotto lo slogan Nessuno è nato per odiare il presidente della regione Calabria Gerardo Mario Oliverio, il parroco di Vicofaro a Pistoia Don Massimo Biancalani e il sindaco di Riace Domenico Lucano, simboli di chi fa accoglienza. Siamo in presenza di una vulgata xenofoba, una vulgata che mette in discussione proprio diritti fondamentali, diritti umani. Credo che questa iniziativa debba essere non solo una risposta a questa vulgata, per affermare appunto, o meglio riaffermare, quelli che sono i diritti delle persone. Al meeting si sono ricordati i 70 anni della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i 70 anni della Costituzione italiana e i 100 dalla nascita di Nelson Mandela, per parlare di accoglienza e dignità, temi su cui si è soffermato il sindaco di Riace, che ha parlato dei rischi legati all'aggressività che cova nella società. Tutto poi si trasforma in odio e purtroppo l'odio in Italia oggi è diventato governo, è diventato classe dirigente. Don Massimo Biancalani ha portato con sé sul palco alcuni ragazzi ospitati nella sua parrocchia a Vicofaro per spiegare come ci si oppone a odio e intolleranza. Si si oppone tutti con la responsabilità collettiva, con prendere coscienza di questa situazione, con la serietà, con l'impegno a lavorare sui valori umani, ripartire dalle nuove generazioni, la scuola è fondamentale. Parole accompagnate da musica, solidarietà e lotta al bullismo con l'intervento di Ilaria Bidini, giovane toscana che da vittima è divenuta paladina dei diritti dei disabili e del contrasto ai bulli.